Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi mi preparo con voi e lo faccio cercando di raccontare un po' di me. Ho provato a fare questo video già due volte, ho cancellato tutto perché perdevo il filo, parlavo troppo, insomma era un disastro. Comunque ci riproviamo, spero che non sia vera la cosa, non c'è due senza tre, perché sennò vuol dire che questa sarà la terza volta che cancello tutto. Inizio a mettere il primer sugli occhi di Nars, questo qua, quello trasparente che vi ho fatto vedere nell'ultimo haul, è una cremina bianca. Mi sta piacendo molto, devo dire. Vi ho detto che sui matt non è il mio preferito e continua ad essere così, però mi sono un po' abituata a questa texture. È sicuramente più morbido di quello colorato che io trovo secco, al contrario di questo. Gli shimmer qua sopra funzionano benissimo. L'unica cosa appunto è che con i matt, secondo me, fa un po' di attrito. Nel senso il pennello fa un po' di attrito mentre lo si cerca di sfumare. Però è una cosa a cui, secondo me, ci si abitua. Bisogna prenderci un po' la mano, ecco. E poi andiamo ad utilizzare, sia per quanto riguarda il viso che per gli occhi, la palette di Natasha Denona, questa qua, che è la versione dark, scusate le impronte. Allora, inizio con mettere questo ombretto qua, che è il più chiaro di quelli presenti in questa palette e lo uso come transizione. Questo video mi è stato richiesto da una di voi che ha notato una cosa di me che non pensavo assolutamente si vedesse in camera. E cioè che ogni tanto, non so se sempre, spero di no, ho gli occhi un po' tristi, ecco. E quindi mi ha chiesto di fare un video dove vi raccontavo un po' di me. E ho preso l'occasione per mostrarvi un po' di prodotti che avete visto appunto nel LOL. E intanto provarli assieme, intanto cercare di dare un senso a questo discorso. Che per me è un po' complicato. Uno, perché sono una persona abbastanza riservata quando non conosce. E due, perché appunto truccarmi senza diventare troppo logorroica, parlando di me, non perdendo il filo, cercando di fare un discorso che abbia un po' di senso. Ecco, lo trovo abbastanza difficile. Infatti vi ho detto che appunto ho girato questo video già due volte. Comunque appunto questa ragazza che si chiama Barbara, ciao Barbara, se non mi sbaglio, perché non voglio confondere i nomi. Scusate se lo faccio, ma io con i nomi sono terrificante. Comunque ha notato appunto i miei occhi un po' tristi. Questa mia tristezza è dovuta dal fatto che non ho preso benissimo la fine di una mia storia. Ormai è passato un bel po' di tempo, comunque porta ancora gli strascichi. E niente, ogni tanto mi prende questa malinconia. Nonché in questi giorni, ma è dovuto a questo al ciclo. Noto che quando ho il ciclo mi vengono in mente più pensieri così un po' pessimisti, un po' deprimenti. Ripenso a tante cose, mi entristisco un po'. Però non voglio rendere questo video una cozzaglia di malinconia. Quindi, niente, questi mie occhi tristi sappiate che sono dovuti a questa cosa. Che tra l'altro è passato un bel po' di tempo, ecco. Io dovrei farmelo una ragione, anzi, avrei già dovuto farmela. Ci sto pian pianino riuscendo. Aiutata anche da tante cose che ho iniziato a fare. Prima non facevo, tra cui andare a correre, andare in palestra. Anche se in quest'ultimo periodo riesco a fare ben niente. Perché il lavoro mi prende fin troppo. E quindi il mio tempo per quelle cose se ne è andato a quel paese, ecco. Però diciamo che andare a correre, soprattutto all'inizio, mi aiutava a scaricare il cervello. Poi appunto sono passata alla palestra, che da persona totalmente pigra, cioè io non facevo assolutamente niente. Ho sempre odiato lo sport con tutta me stessa. Ho notato che fa bene al mio cervello. E quindi mi sono data un andi. E oltre che far bene al mio cervello, fa bene anche fisicamente, mi sento meglio. Mi sento più sicura di me stessa. E questo naturalmente ha influito. Un'altra cosa che mi ha aiutato tantissimo è appunto stata iniziare a truccarmi. Non a truccarmi come facevo prima, ma a dedicarci un po' più di tempo. È proprio un momento che io prendo per me e che faccio pace con il mondo. Veramente. E visto che io faccio come tutti, penso, al mattino, mi aiuta anche a svegliarmi. In più quest'anno, a questo mio umore, così un po', negli ultimi tempi direi altalenante, si è giunto un carico da 90. Perché se l'avete visto in un video dove provavo la palette di Natasha Denona, vi ho detto che era mancata una persona a me molto cara. E era uno dei miei zii, a cui io ero molto molto legata, soprattutto da piccola, perché mi ha quasi un po' cresciuta. Niente, non l'ho presa benissimo, assolutamente. Non pensavo di prenderla così male, pensavo di essere molto più forte e distaccata. Non è stato per niente così, anzi. E poi soprattutto mi ha fatto stare male anche tanto a vedere mia mamma soffrire in quel modo. Cioè, ha avuto proprio un periodo brutto di depressione e così. E allora, ecco, tutte queste cose non hanno certo influito quest'anno a migliorare il mio umore. Scusate, ho questi capelli che mi fanno impazzire. Oggi sono da lavare, ma non li ho lavati perché fuori c'è un tempo da lupi. Sarebbero stati orrendi, anche perché il mio Dyson ha deciso di lasciarmi e devo mandarlo in assistenza. Quindi sono obbligata a tenermi i capelli naturali. E purtroppo tutta questa umidità non va molto d'accordo. Con i miei capelli ho deciso di rimandare il lavaggio a domani. Comunque vi stavo dicendo della mia delusione sentimentale. Io non l'ho presa per niente bene. Sono stata lasciata, ma convivevamo già da qualche anno. Adesso sto mettendo questo shimmer qua, che è quello che mi ha fatto comprare la palette su tutta la palpebra. Comunque vi dicevo che lui pensavo che fosse la mia metà della mela. E poi è stata una cosa che proprio non mi aspettavo. Cioè, sì, discutevamo come tutte le coppie alla fine. Anzi, per me discutere è assolutamente normale. Di più. Se io non discuto in un rapporto mi annoio. Quindi per me non era così tragica la cosa. E evidentemente dall'altra parte non era lo stesso. Io ero proprio convinta che lui fosse quello giusto. E lo sono stata convinta per un po' di anni anche dopo. Questo era il mio livello di fuori di testa. Adesso va appunto molto meglio. E in questo mi ha aiutato tanto il make up. E non pensavo. Non pensavo assolutamente. Anzi, io non guardavo neanche YouTube. Ho iniziato a guardarlo così per trovare una palette. Perché me ne era finita una. Anzi, l'unica che io abbia mai avuto. Che era una piccolina piccolina di Essence. Aveva sei colori, mi ricordo. E io ne usavo solo uno. Finito quel colore ho deciso, boh, voglio avere un'altra palette per truccarmi un po' di più. E da lì ho iniziato a guardare video anche su come truccarmi. Perché non sapevo neanche tenere un pennello in mano. Io anzi, avevo il terrore degli ombretti. Quell'ombretto lì che avevo lo metto col dito e basta. Era molto chiaro, brillante. E finiva lì la cosa. Vado a mettere l'illuminante nell'angolo interno. Anche perché in questa palette non esiste un colore di ombretto abbastanza chiaro per me. Anche l'illuminante è piuttosto scuro, devo dire. Comunque in quel periodo ero anche fissata con i prodotti bio. E dico fissata perché nessuna cosa che avesse anche solo toccato qualcosa che poteva contenere del silicone doveva toccare la mia faccia. Quindi mi sono andata ad orientare su brand quali Neve Cosmetics. Infatti la mia prima palette è stata quella neutral, come si chiamavano? Quelle grosse di plastica. Ecco, quella è stata la mia prima palette occhi. E da lì è iniziato il disastro. Cioè nel senso, non è che me ne sono fermata quella. Assolutamente no. Anche perché quella, vi devo dire la verità, non mi ha mai soddisfatto. Infatti l'ho data via ben presto. Così sono entrata in questo loop e dalle palette poi sono passata a tutto il resto. Adesso vado a mettere il primer di Stoneford, così lo faccio un po' settare. Allora, questo qua vi avevo detto che ho gli essenziali, lavanda, linalol, geraniol e quant'altro. E non ho ancora capito sinceramente se mi dia problemi o meno, perché appunto adesso ho il ciclo e ho avuto la fioritura che mi viene tutti i mesi. Anche se questa volta devo dire di più. Non so se sia dovuto a lui o ad altro. Vi dico, se non avete problemi di sensibilità, è fantastico. Peccato che abbia questo piccolo difetto. Il packaging non mi piace troppissimo, perché non so, sembra leggero, plasticoso. Poi sembra che non si chiuda bene, ha questa chiusura a scatto qua, che quando lo si richiude rimane un po' in alto. Non so, non mi fa impazzire il packaging. Mentre aspettavo che il primer si fissasse, sono andata a mettere il mascara, ho messo questo qua di MAC sulle ciglia superiori. Ho messo questo perché devo finirlo, è aperto da tanto tempo. Un po' questo in realtà io di solito lo uso per le ciglia inferiori, ma ce l'ho aperto da credo quasi un anno ormai. Però ce n'è, funziona e quindi continuo ad usarlo. Però mi rendo conto che soprattutto in mascara dovrei starci un po' più attenta. Comunque adesso sto andando a mettere il fondotinta. Ho messo un mix di quello di Lisa Eldridge e di quello di Nars Light Reflecting. Perché Lisa Eldridge è troppo scuro, Nars un po' troppo chiaro. Quindi ho fatto un misto. Cosa che non faccio quasi mai, però ho detto oggi che ho un po' più di tempo, ne approfitto. Vi dicevo che appunto ho iniziato a guardare un sacco di video su YouTube. Prendere varie palette occhi, vari ombretti singoli anche, quelli in cialda di Nabla. E così niente, è iniziata la mia ossessione e adesso si è stesa a tutto. Fino a che appunto non ho sentito l'esigenza di aprire il canale su YouTube. Perché? Perché è diventata una mia grandissima passione, ma non ne potevo parlare con nessuno. O meglio, l'ho fatto e all'inizio di ossessionare i miei amici con queste cose, la mia famiglia. Ma obiettivamente a loro non ne può fregare di meno. Ho cercato di non parlarne più, però appunto dovevo condividere con qualcuno questa mia passione. Penso che sia una delle ragioni principali per cui si apre un canale YouTube sul make-up. Ecco, il parlare con qualcuno e condividere questa cosa con qualcuno. Oltretutto la mia unica amica con cui io potevo parlare di queste cose, che mi dava un po' retta, viene andata a vivere in Sicilia. Ci sentiamo sì con questa mia amica, ma visto che ormai ci sentiamo relativamente poco, perché tra il lavoro e tutto, il tempo e quello che è, ne approfittiamo per parlare di altro, non certo di trucchi, ecco. Beh, mi piace un sacco questa combo e anche il colore è venuto benissimo, devo dire. Ho azzeccato bene le dosi dei due fondotinta. Adesso vado a mettere un po' di color corrector di Charlotte, questa è una colorazione medium. Lo stendo con il dito perché mi sono dimenticata il pennello, come sempre mi dimentico qualcosa. Dopo il color corrector vado a mettere il nuovo correttore di Charlotte Tilbury, lo metto un po' qua all'interno dell'occhio e un po' all'esterno, ai lati del naso, un pochino sul naso. Lo vado a stendere con il pennello del fondotinta. Sull'aprire il canale di YouTube ci pensavo da un bel po' di tempo, poi non l'ho mai fatto perché temevo un po' il giudizio delle persone, ma non delle persone che mi guardano su YouTube e non mi conoscono, ma bensì di quelle che conosco. Non so, pensavo di sembrare frivola e queste cose qua. Allora questa cosa mi ha sempre trattenuto. Poi un giorno parlandone con un mio amico, eravamo in montagna così, e gli avevo detto di questo mio desiderio così, e lui mi ha detto ma fallo, fregatene. E da quella volta lì lui ha dato il via a tutto, è tutta colpa sua. Dopo quella bella gita in montagna ho iniziato a interessarmi su tutta l'attrezzatura che ci sarebbe voluta. Perché io non potevo iniziare come fa la gente normale con il mio telefono. Ma ho un cavalletto e queste cose qua. No. Ho comprato la fotocamera, ho preso tutto il necessario, microfono, luci, è stato un bell'investimento, ma non l'ho fatto con il telefono, semplicemente perché il mio telefono è un po' datato. Al momento non ho nessuna intenzione di cambiarlo, io odio cambiare i telefoni, mi dà proprio fastidio, devo rimpostare tutto, salvare tutto, passarlo da un telefono all'altro, sono proprio incapace in queste cose, con tutta la tecnologia io sono incapace. E quindi cerco di rimandare questo momento al più tardi possibile. Mi è sembrato un investimento più a lungo termine rispetto a un telefono nuovo, che poi dura quel che dura. Questo correttore qua a me piace un sacco. Ho sentito la storia dei brillantini da Giovanna Lavuison. Io non me ne ero assolutamente accorta, ma perché non mi sono mai guardata alla luce del sole prima di mettere l'ombretto che io metto molto brillantinato, e quindi spesso io ho i brillantini sulla faccia, e quindi non avrei dato sicuramente la colpa al correttore. Poi comunque mi piaceva il correttore, non mi sono posta proprio il problema. Prima di girare questo video, mi sono messa un po' di correttore sulla mano prima di truccarmi, mi sono lavata le mani 30 volte, non avevo assolutamente truccato un ombretto con dei brillantini, e visto che oggi il sole non si vede assolutamente, cioè è di un buio, piove, allora ho preso il telefono, ho messo il flash, e in effetti qualche riflettenza si vede, sono micro microscopici, ecco io non so se sia dovuto a dei veri brillantini, ho sentito che potrebbe essere stato contaminato un lotto di correttori da appunto da dei brillantini, oppure possa essere l'amica, correttore mi pare che contenga amica, che ha questo effetto luminoso, non so quale delle due opzioni sia vera, comunque sono veramente, veramente microscopici, a me non mi danno nessun fastidio, certo è che se appunto non vi piace questa cosa sul viso, lasciate stare, e quindi adesso lo vado a fissare con la mia cipria di Pat McGrath, e questo è quello che ne rimane dopo che è volata, il resto che ho salvato l'ho messo in un barattolino, l'unica cosa è che adesso si la prelevo, non c'è problema, io la uso lo stesso, ma la devo scaricare, perché sennò ne metto troppa, e l'effetto non mi piace, mi piace un sacco questa combo di fondotinta, e invece per quanto riguarda la cipria di Charlotte Tilbury, mi devo ancora fare un'idea precisa, lo so che l'ho presa da tanto tempo, ma io ci metto tantissimo a testare i prodotti, li devo testare con praticamente tutto quello che ho, di correttori, nel caso delle ciprie, devo assolutamente comunque girare un video, aggiornamenti su tutto quello che ho preso finora, e che ho provato per bene, lo devo fare, lo farò a breve, Adesso vado a usare il contour in stick, contour bronzer in stick di Westman Atelier, questo nella colorazione Biscuit, allora vi stavo appunto dicendo, che non volevo aprire il canale, per il giudizio delle persone che conosco, sia di quelle che sento ancora, della famiglia e tutto, sia soprattutto di quelle con cui ho un po' chiuso i rapporti, soprattutto appunto dopo la fine della mia storia, perché io ho chiuso i rapporti con tante persone, perché erano praticamente tutti amici in comune, per non pensare a lui, per non sapere niente di lui, ho deciso di chiudere, è stata una scelta sofferta, mi dispiace un sacco, però ne avevo proprio bisogno, cioè non riuscivo a vedere certe persone, sentir parlare di lui, stavo male, quindi per il mio bene ho fatto ciò, non ne vado fierissima, mi dispiace un sacco di non vedere più certe persone, però devo dire che alcuni, non tutti, ma alcuni non si sono più fatti sentire, quindi sicuramente erano più amici suoi, su questo non c'è dubbio, però ci siamo frequentati per un bel po' di anni, quindi volendo, però va bene così, avevo un po' paura del loro giudizio, soprattutto, e questa cosa mi ha sempre trattenuto, poi a un certo punto ho detto, ma chi se ne frega, pensino cosa vogliono, vogliono, amen, anche perché forse era il periodo in cui, iniziava un po' ad uscire da questa cosa, quindi ho deciso di pensare più a me stessa, ed è la cosa che sto facendo in questo periodo, cioè sto pensando più a me stessa, mi sto dedicando a me stessa, cercando di volermi più bene, anche perché io sono una persona fondamentalmente molto insicura, e quindi niente, sto lavorando tanto su questa cosa, e lo sport e anche il make-up aiutano, e invece del giudizio della gente che non conosco, mi dispiace sì, se c'è un commento negativo, se si pensano cose strane su di me, perché non posso dire che non mi dispiaccia, però ecco, è molto relativa la cosa, amen, non ti conosco, tu non conosci me, e quindi il tuo giudizio su di me, ha poco effetto, ecco, a livello emotivo, sul mio umore, non ho ricevuto tantissimi commenti negativi, anzi, penso ben pochi, però quello che ho ricevuto, in particolare, sulla mia quantità di fondotinta, mi ha lasciato un po' così, in cui mi è stato detto, che sono un amminorata mentale, mi ha fatto anche ridere, io sinceramente, uno non mi sento un amminorata mentale, non penso di essere un genio, ma un amminorata mentale, assolutamente no, poi ho visto che qualcuna di voi, poco tempo fa, ha risposto, però se posso dire una cosa, su questi commenti, di cui appunto mi interessa ben poco, l'unica cosa, è che io userei altre parole, per esprimere la stessa cosa, ma secondo me c'è modo e modo, l'essere sempre onesti, nelle cose che si dicono, ok, però si deve anche trovare, un equilibrio con l'educazione, è per me la cosa fondamentale, anche nel mio lavoro, io sono un'insegnante, e soprattutto l'educazione, adesso vado a mettere il blush, dalla palette della Denona, lo prendo con lo stesso pennello, comunque vi parlavo del discorso educazione, dovuto appunto al fatto, che io ho avuto un'educazione, abbastanza severa, in cui mi è stato anche insegnato, a pensare, alle reazioni degli altri, e quindi io ogni volta faccio qualcosa, dico qualcosa, questo è anche un mio difetto, penso a come potrebbe prenderla l'altra persona, è un mio difetto, perché facendo così mi limito anche tanto, sto cercando di farlo un po' meno, anzi adesso lo faccio decisamente meno, una volta ero molto più riflessiva, adesso invece sarà anche perché sono un po' cambiata, dopo questa delusione sentimentale, le cose non me le tengo più tanto, ecco, se devo dire qualcosa a qualcuno, glielo dico senza farmi troppi problemi, però cercando sempre di mantenere i toni pacati, di questa palette, mi piace un sacco la parte viso, e l'ombretto che ho messo su tutta la palpebra, della light adoro gli ombretti, perché questo è molto bello, sì ma è scuro, e invece quelli della light, sono proprio luce, anche questo ha la stessa texture, ma essendo così scuro, si vede meno la luminosità, diciamo che una cosa che manca, queste Glam Face Palette di Natasha Denona, rispetto a tutte le altre, è la possibilità di togliere gli ombretti, e metterle in altre palette, vedete, a parlare, e io mi perdo sulle cose che devo fare, oppure, mi trucco, e mi perdo nel parlare, questa è la difficoltà che trovo io in questo video, comunque, vado a prendere adesso, me lo stavo dimenticando, il bronzer in polvere, questo è quello di Dolce Gabbana, il packaging è spettacolare, il colore è molto caldo, cioè almeno per me, infatti è assolutamente un bronzer, e mi piace metterlo, quando faccio un minimo di contour, è molto pigmentato, secondo me adesso ne ho preso troppo, l'ho scaricato un po' sulla mano, perché è veramente pigmentato, basta toccare la cialda, e si preleva, soprattutto con i pennelli a setole naturale, preleva molto più prodotto, un pelo qua, ecco, comunque veramente, veramente bello, finish stupendo, è opaco, ma è sfumabilissimo, per quanto se ne preleva, non ho mai fatto macchia, cioè si, ne applica tanto, ma si sfuma benissimo, e anche se questo colore, su di me è molto bronzer, e poco contour, però rimane estremamente, estremamente naturale, senza sfociare nell'arancione, quindi mi piace molto, io continuo a metterne, perché sapete, quando mi piace un bronzer, faccio fatica a smettere, questo me l'ha consigliato una di voi, e sappiate, che per il Black Friday, ho preso anche l'altro pezzo, che mi è stato consigliato, appunto, è il blush, che ha un colore per il contour, adesso vado a mettere l'illuminante, prendo questo, sempre dalla palette, di Natasha Denona, anche se per me, vi dico, è scuro, però mi sono dimenticata, anche l'illuminante, quindi mettiamo lui, si è scuro, ma se lo metto, non troppo alto sul viso, e poi ci vado a ripassare, il pennello per il blush, riesco ad usarlo, questo è un illuminante, brillantinato, si vedono ad occhio nudo, non c'è bisogno, non so se notate, adesso appunto, vado a ripassare il tutto, con il pennello del blush, vi dicevo appunto, di come ho deciso, di aprire il canale di YouTube, pensate che all'inizio, io pensavo di caricare, tre video a settimana, poi mi sono semplicemente, scontrata con la realtà, cioè il lavoro, la vita, per me è già tanto, caricarne due, quando riesco con il lavoro, che non sono estremamente impegnata, con riunioni, consigli, compiti in classe, da correggere, riesco anche a caricarne due a settimana, quando invece, come questi ultimi due mesi, queste cose si accumulano, uno sopra l'altro, e torno a casa, anche alle otto e mezza, ecco, diventa un po' difficile, soprattutto perché, a montare, più che a girare, ma a montare, ci metto una vita, ve l'ho detto, io e la tecnologia, siamo due cose diverse, io ho imparato a montare, imparato, non ho imparato, comunque quello che so, l'ho imparato da zero, e all'inizio è stato, un trauma, vero e proprio, oltre che montare, è stato un trauma, anche girare, perché all'inizio, non sapevo cosa dire, cioè, mi mancano le parole, non che adesso, non mi manchino, assolutamente, perché ci sono i momenti, in cui, non so cosa dire, inizio a balbettare, però all'inizio, è stato molto tragico, quindi, i miei tre video a settimana, sono diventati, al momento, uno, mi sono scusata, l'altra volta, e voi mi avete detto, non ti devi scusare, ma, un po', è un mio problema, carattere reale, quello di chiedere, spesso scusa, dovuto appunto, alla mia educazione, e due, è uno scusa a voi, ma, è anche perché, mi dispiace per me, cioè, mi dispiace veramente, non riuscire a far di più, perché, vorrei far di più, ho un sacco di video, in mente, quest'estate, mi sono portata, dietro, al mare, un blocnotes, ho segnato, un sacco di video, una ventina, da fare, penso di averne fatti, se va bene, sette, poi nel mentre, se ne sono aggiunti altri, perché, ci sono state, le varie uscite, quindi, quello è influito, però, ecco, sono un bel po' indietro, parecchio, ah, nel mentre che parlavo, mi sono dimenticata di dirvi, che ho messo, la cipria di Sisley, scusate, dovevo assolutamente, lavarmi le mani, sono un po' ossessivo compulsiva, sulle mani, non solo, comunque, sono andata a mettere, lo stesso mascara, anche sulle ciglia inferiori, vi ho evitato, anche qua, questo strazio, prima di passare, alle labbra, vado a spruzzare, un po' di setting spray, questo è quello di Charlotte, lo faccio asciugare, un attimo, e poi vado a mettere, la mia finishing powder, preferita, che sono queste perle, di Garlen, prima di passare, a mettere, la finishing powder, vado a prestare bene, il tutto, con la sponge, così, tutto penetra bene, si tolgono eventuali eccessi, io mi trovo molto bene, con questa tecnica, passare, la sponge, più e più volte, durante, una full face, comunque, adesso appunto, andiamo a mettere, la finishing powder, uso queste perle, di Garlen, questa appunto, è la mia finishing powder, preferita, in assoluto, perché, sono in perla, sì, ma la polvere, di per sé, è molto molto stile, non è matte, assolutamente, ha un effetto luminoso, soft focus, mi aiuta a blerrare, un sacco, se divento lucida, non è assolutamente, colpa di questa cipria, ma di quello che c'è sotto, io l'ho usata, anche con fondotinta, luminosi, che mi piacciono, quali, quello di Charlotte Tilbury, che sicuramente, non è opaco, e non mi ha lucidato, ecco, semi lucido, è perché c'ho altri problemi sotto, non per lei, comunque io questa cipria, ce l'ho credo da più di due anni ormai, l'ho usata molto molto spesso, e sono credo quasi a metà, neanche, durano un sacco, l'unica cosa, bisogna stare attenti, a quando si preleva col pennello, perché, delle perle, possono rimanere incastrate nel pennello, ecco, poi vanno a finire nel lavandino, adesso andiamo appunto a finire con le labbra, e vado a mettere questa matita qua, che è l'op trap di Charlotte Tilbury, Allora, sulle labbra avrei voluto mettere quello di Dior, quello no transfer, io ho il numero 300, però, visto che ho già fatto questo video, so come mi sta con questo trucco, e trovo che non sia perfettamente abbinato, ecco, non che io sia una che abbina benissimo le cose, o che ci faccia molto caso, ecco, però, quel rossetto lì è freddo, questo look qua, alla fine è abbastanza caldo, vorrei rimanere su qualcosa di non così freddo per le labbra, quindi vado a provare questo qua di Chanel, è il 199 in attendue, che è un rouge allure, mi pare, è appunto un po' più caldo, di quello di Dior del 300, anche perché ho visto che il 300, ce l'hanno praticamente tutti, odio questa punta del rossetto, giuro, già io non sono particolarmente precisa, già io ho dei contorni labbra, che fanno un po' pena, questa punta qua non aiuta, questi rossetti durano benissimo, devo dire che secondo me, è il loro miglior pregio, per essere dei rossetti satinati, sono molto sottili, e infatti il loro essere così sottili, secondo me, li rende meno leviganti di altri, che sono magari un po' più spessi, ad esempio quelli di Natasha Denona, hanno un finish più spesso, più corposo, e quindi tendono a levigare un po' di più le labbra, questi un po' meno, però a me piacciono tanto uguale, sì, questo rossetto secondo me ci sta meglio, rispetto al 300 di Dior, che ho usato le altre volte, io ho finito, spero vivamente, di essere riuscita a girare un video decente, con un senso logico, dove non parlo troppo, non sono troppo logoroica, mi trucco poco, o il contrario, ecco, trovo difficile trovare un equilibrio in questi video, forse dovrei parlare solo, senza dare troppa attenzione ai prodotti, forse sarebbe stato il caso, sì, vabbè, ci vediamo la prossima volta, in questo caso, tanto vi ho raccontato solo poche cose di me, però un minimo ci ho provato, io vi mando un saluto, grazie infinite della compagnia, ci vediamo alla prossima, ciao!